Corvo, se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi, ti avrei tenuto vicino a me. Ma purtroppo non c'era alternativa. E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te. La peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura. Quando tu segui, mi sento in pace. Emily e Dio conteremo i giorni fino al tuo ritorno. Fai in fretta e torna con buone notizie. Fanno ferma! Ci siamo! Occhio! Molla gli ormeggi! Mollati! Ci muoviamo! Andiamo alla Dunwall Tower. Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice. Tanta strada per portare cattive notizie. Secondo i marinai, siamo maledetti. Magia nera. Superstizioni. Per quanto ne sappiamo, c'è già la cura per la peste. Forse. Stiamo vivendo tempi strati. Allontanare la guardia del corpo dell'imperatrice per un paio di mesi. Questo è strada. Era importante. Serve aiuto contro la peste. Taylor! Ci sale! Occhio serrato! Pronti! Attivo le bombe e si sale! Casa dolce casa! Pressione costante! E... stop! Chiudere tutto! L'imperatrice ti sta aspettando, Toro. Ora sai cosa fare? Sì, sì. La pressione era bassa. I nuovi macchine... Signore? Toro, sei tornato! Dimmi del tuo viaggio. Ti prego, c'erano le balene. Aspetta, giochiamo a nascondino ora. Io conto e tu ti nascondi. Ah, c'è tempo. Mamma sta parlando con quel vecchio e cattivo capospia. Bene, andiamo. Hai visto qualche mostro nei tuoi viaggi sulle altre isole? La tata dice che il grande oceano ne è pieno. Ma penso che voglia solo spaventarmi. Andiamo, corri! Vediamo se sei ancora bravo. Io mi copro gli occhi e conto. Quando ho finito, ti vengo a cercare. Bene, conterò fino a dieci. Trovo un nascondiglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sto arrivando! Tanto, ti trovo sempre. Ti trovo sempre. Ti trovo sempre. Hai vinto, va bene. Ora andiamo, così anche mamma potrà vederti. Quando non c'eri, la mamma era triste. Le mancavi tanto. Bentornato, Lord Protettore. Campbell, state fermo. Corvo, bentornato a casa. Ovunque tu sia stato. Gli hanno fatto girare tutte le isole in cerca di aiuto. Tempo sprecato. Il mio Elisir può liberare la città dalla peste. Ora state fermo un momento, Alto Sacerdote Campbell. Secondo me il quadro non somiglia a Campbell. Vi riceverà subito. Sono persone malate, non dei criminali. Vostra maestà, ne abbiamo già parlato. Sono... Sono miei sudditi. Se sarà possibile, li salveremo dalla peste. Tutti quanti. Molto bene. Non intendo discuterne più. Mamma, Corvo è tornato. Grazie, cara. Lasciateci soli. Come volete, vostra maestà. Corvo, due giorni d'anticipo. Continui a sorprenderci, come sempre. Benedetto è il vento che ti ha riportato qui. Che notizie mi porti? Seguimi, capitano. Lascio. Speravo che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura. È una notizia pessima. Non possiamo fare nulla. Vegliacchi hanno intenzione di isolarci. Aspetteranno che la peste trasformi la città in un cimitero. Tutto bene, mamma. Sembri triste. Sì, non preoccuparti, tesoro. La mamma sta bene. Ma dove sono le guardie? Chi le ha allontanate? Mamma, guarda! Che stanno facendo sul tetto? Cosa? Emily, vieni qui! Emily, dietro di me! Corvo, grazie. Se tu non fossi stato qui... No, non ancora. Basta! Mamma! No! Lasciatela! Corvo! Mamma! Battene! Corvo! Corvo! Tutto va in pezzi. Trova... Trova Emily. Proteggila. Tu puoi farlo. Sai cosa fare. Promettilo. Corvo! Corvo! Santo cielo, guardate cosa ha fatto. Sì, ha ucciso l'imperatrice. Che cosa hai fatto a Lady Emily, traditore? La sua guardia del corpo. Assurdo. Sarai giustiziato per questo corvo. Prendetelo. E iscriviti al cielo, guardateca, Marco! Somos! Gian querer! Chiara! MER! ためa feel! Unasan emirchant! Oder L?? Sei! postаки! Or dots! ierto! Are film!